E' una fiction che ha riscosso un grandissimo successo e che non può essere non considerata positivamente per i valori che esprime. Parliamo di Braccialetti Rossi, la cui anteprima nazionale della prima puntata della terza edizione è andata in scena a Cosenza. La manifestazione è stata anche l'inaugurazione della rassegna alla Scuola Cinema, ma gli attori della popolare fiction presenti a Cosenza, Mirko Trovato e più Luigi Picicelli, sono stati ricevuti anche a Palazzo dei Bruzzi, dove hanno potuto incontrare tanti giovani, la cui presenza numerosa ha confermato il successo riscosso dalla serie televisiva. Un'accoglienza straordinaria da parte di questi ragazzi, bello, bello. Abbiamo anche lasciato una firma nel librone del municipio. Io poi, lo dico sempre, sono recidivo in Calabria perché vengo ogni anno a una casetta a San Gineto e quindi nelle mie vene scorre un pizzico di sangue calabrese. Comunque anche io ho questa forte matrice del sud che insomma mi accomuna tutti loro. Grazie, grazie per questa accoglienza straordinaria, davvero.